Agire in fretta per evitare il collasso del sistema di accoglienza. È l'obiettivo del Premier Meloni che assieme ai ministri Piantedosi, Tagliani, Salvini e Crosetto si prepara a valere misure urgenti per contenere i flussi dei migranti. Gli sbarchi sono saliti a quota 28.000 in questi primi tre mesi, il 300% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E con questo ritmo le proiezioni indicano 430.000 migranti in arrivo entro la fine dell'anno. Sul tavolo l'aumento dei centri di accoglienza, se ne prevede uno per ogni regione, ma anche norme più stringenti per la concessione della protezione speciale, l'accelerazione delle procedure di identificazione e la moltiplicazione dei rimpatri assistiti. Non solo, occorrerà dare una risposta alle richieste dei comuni di maggiori interventi finanziari per sostenere i costi e l'accoglienza e indicare un piano di aiuti alla Tunisia vicina al collasso economico. Il ministro della difesa Crosetto si è inoltre detto disponibile all'invio di navi aerei per svuotare l'hot spot di Lampedusa che da settimane vive in emergenza. Si punta inoltre a potenziare i rimpatri, accelerando alle frontiere le procedure per l'esame delle domande di protezione in modo a dare risposte più veloci e agevolare il rimpatrio di chi non ha diritto di restare in Italia.